Una delle domande che mi fate più spesso durante il periodo invernale è se convenga di più acquistare l'arva o un dispositivo orecco. Oggi risponderemo a questa domanda. Quando si parla di sicurezza in ambiente invernale, il parametro numero uno da tenere a mente è la tempestività. Detto ciò, per capire se acquistare arva o orecco, dobbiamo innanzitutto capire come sono fatti e come operano. L'arva, per funzionare, ha bisogno che si abbiano almeno due dispositivi, uno messo in modalità di trasmissione e uno di ricezione. Ma come funziona? Il dispositivo messo in modalità di trasmissione emetterà un'onda che verrà ricevuto dal dispositivo messo in modalità di ricezione. Il dispositivo messo in modalità di ricezione ci visualizzerà a schermo la distanza rispetto al sepolto e a quel punto, seguendo le indicazioni che ci dà l'arva, andremo ad arrivare sopra il sepolto. Una volta poi arrivati sopra il sepolto, dovremo utilizzare la pala e la sonda per tirarlo fuori, ma questa è un'altra storia di un video che abbiamo già fatto. Il riflettore Recco, come dice la parola, è un dispositivo che riflette. Ci sarà bisogno di un dispositivo abbastanza grosso, che tenete conto non è in commercio e costa davvero tanto, che vada a emettere un'onda, il riflettore la riflette e il dispositivo va a capire dove si trova la persona con Recco. Questo dispositivo però, oltre come dicevo essere grosso e costoso, non è acquistabile. È acquistabile solamente da degli enti, come può essere il soccorso alpino, le stazioni scistiche, alcuni rifugi, ma non possiamo acquistarlo noi privati. Quindi dobbiamo sperare, se abbiamo un riflettore Recco, che il soccorso alpino intervenga molto velocemente, che abbiamo vicino delle stazioni scistiche che l'abbiano in dotazione o anche dei rifugi. Capite già che qua abbiamo un grosso problema. Come vi anticipavo prima, la tempestività è la chiave per salvare una persona. E se noi dobbiamo aspettare che intervenga il soccorso alpino o qualche rifugio, qualche stazione scistica, i tempi si allungano notevolmente. E tenete sempre a mente che dopo dieci minuti che una persona è stata sepolta da una valanga, le probabilità di trovarla viva calano drasticamente. Quindi, alla domanda se conviene comprare Arva o Recco, direi che la risposta l'abbiamo capita. Conviene sicuramente un Arva. Questo perché i tempi di soccorso alla persona sepolta sono decisamente inferiore rispetto a un Recco. Possiamo acquistare tutti i dispositivi che abbiamo bisogno per aiutare la persona. E infine, è anche molto più semplice da utilizzare. Ma quindi, quando ha senso andare ad acquistare un dispositivo Recco? Adesso lo vediamo insieme. Un dispositivo Recco ha senso acquistarlo in tutti gli altri casi in cui vogliamo essere trovati facilmente, magari da soccorso alpino, ma la tempestività non è la chiave per essere salvati. Vi faccio degli esempi. Può capitare che magari ci facciamo male, ci sloghiamo una caviglia sotto un fitto bosco. In quel caso di avere un dispositivo Recco permetterà al soccorso alpino di trovarci molto più facilmente. Allo stesso modo, se Shagura vuole che dovessimo cadere in un dirupo e restarci secchi, il soccorso alpino con un dispositivo Recco troverebbe molto più facilmente il corpo. Quindi il Recco ha senso averlo, sempre, ma in quelle situazioni in cui la tempestività non è la chiave tra vivere o morire. Tenete conto però che tantissime aziende stanno andando a implementare il riflettore Recco all'interno dei propri prodotti. Ad esempio oggi è facile trovare un dispositivo Recco su uno zaino, all'interno magari di una giacca o di un pantalone, oppure anche di uno scarpone. Quindi non c'è neanche più bisogno di andare a comprare il riflettore singolo. Molte volte lo abbiamo in dotazione con diversi prodotti che andiamo ad acquistare. Detto ciò ragazzi, io spero di avervi fatto capire quando ha senso comprare l'ARVA e quando ha senso comprare invece il dispositivo Recco. Mi raccomando, non ne emosinate mai sulla sicurezza perché è quella che ci salva la vita. Detto ciò, io ho una speranza che sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!